Ha dichiarato di risiedere in Italia da almeno 10 anni e di abitare in un comune della provincia pesarese da almeno 2. E invece viveva in Italia assaltuariamente, una donna di 68 anni e così finita nei guai per aver inserito falsità nella domanda necessaria al rilascio del reddito di cittadinanza. Un comportamento che le ha permesso di percepire nel 2019 e nel 2020 un importo complessivo di 5.000 euro. A smascherarla sono state le fiamme gialle di Fano che in collaborazione con l'Inps hanno scoperto che quanto dichiarato nell'istanza presentata all'Istituto non corrispondeva alla realtà. Infatti la donna e i risultati è scritta per la prima volta nelle liste anagrafiche nazionali il 18 novembre 2009 nel comune di Monteporzio, ma 5 anni dopo, era stata cancellata per accertamento di irreperibilità. Nel 2017 poi era stata riscritta all'ufficio anagrafe di Fano, ma ad un indirizzo che in realtà era il luogo in cui avrebbe dimorato per soli due mesi per assistere alla proprietaria. Terminata l'esigenza, la 68enne aveva lasciato definitivamente la casa, ma senza provvedere alle dovute variazioni negli uffici comunali preposti. Dunque, non avendo i requisiti per beneficiare dell'intervento di politica sociale, la donna è stata segnalata sia all'autorità giudiziaria per aver percepito indebitamente le erogazioni a danno dello Stato, sia all'Inps per la revoca del sostegno e il recupero della somma incassata.